buonasera a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Technology ed oggi siamo in un nuovo vlog molto 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 importante perché oggi vorrei affrontare un argomento serio perché è serio perché sta da una cavolata, da un gioco sta diventando la causa di non dico della morte ma quasi di tante persone che si prendono paure pazzesche facendo da Charlie Charlie Challenge c'è gente che urla e rimane quasi paralizzata perché una matita si muove e molte persone non stanno morendo però stiamo andando vicini infatti c'è gente che ad esempio mi chiede, mi dice ma fai la Charlie Charlie Challenge, ricevi le visualizzazioni stiamo scherzando cioè ma secondo te è meglio fare cazzate? perché è una cazzata e ricevere visualizzazioni? o è meglio fare cose serie? cioè parlare di calcio, fare dei gameplay, cose comunque costruttive? sempre ovviamente rimanendo nel mondo youtube che non è che sia una cosa così costruttiva avere meno visualizzazioni ma facendo cose migliori che abbiano un fine cioè per me è meglio avere meno visualizzazioni ma fare cose serie perché mo' che tu ti metti là metti due matite cosa? Charlie Charlie Charlie, sei? ti metti due cose? perché soprattutto le femmine lo fanno perché va bene, noi maschi non è che mo' spaventiamo di ste cavola però vi sono anche molti maschi che si spaventano di una matita che si muove cioè a me in genere non so cosa sia non me ne frega Gente che dice Che ha detto Golden Jumpy Un demone Che ti entra in casa Cioè delle cose pazzesche Un demone Cioè ma tu ci credi in Dio Sì o no? E soprattutto Non credi in Dio e credi nei demoni Ma stiamo scherzando Cioè uno è credente o no? Non è che o crede in Dio o crede ai demoni Cioè veramente non lo so Una volta esiste Cristiano, ebrio Islamico Buddista E ateo Ma esiste Ateo è colui che crede nei demoni Ma stai non scherzando Ma tu credi al diavolo Ma stai non scherzando Cioè il diavolo è il simbolo Dello scudetto del Milan Basta Non esistono Cioè tu Madonna Quindi risposta a quelli che me l'hanno chiesto Di farla Non la faccio Perché io queste cacchiate Non le faccio Cioè ma Faccio Posso fare rischio e gusto Posso fare Cosa che ti divertono Tu che ti Io non mi prendo Le spaventi Perché ho visto gente Che non c'è se mia Che lo faccio Casino mamma Tranquillo Ma c'è Sta causando Spaventi Quasi infarti Di milioni di persone Perché una matita si muove Senza che la muovi tu Ma stiamo scherzando Cioè ragazzi Dove finiremo Dove finiremo Una volta Che erano Facevano paura Su youtube Inizio di youtube La gente che faceva video Con programmi speciali Che si staccava la testa Che cosa fa Boh fa paura Challenge 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 Stiamo scherzando Cioè non fanno Favere film Non fanno paura Che fa paura Challenge Challenge Cioè Fincialmente Non so che dire Ragazzi Seguita me Che non sono nessuno Ma Questa cosa la so Se questa cosa La volete fare Per una prova Di E Fatela Ma non vi spaventate Perché è semplicemente Una cazzata Ma niente di che Quindi Con questo concludo Io la penso così Se questo video Vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Condividete Se vi va Ed iscrivetevi Al canale Se non l'avete Già fatta Per il resto Non la fate Stavolata Perché non serve A niente Ciao ragazzi